buongiorno a tutti la cade oggi di oggi ci porta indietro di trentadue anni al ventitré maggio millenovecento novanta due all'attentato subito da giovanni falcone sull'autostrada a 29 nei presidi capaci località circa 20 chilometri da palermo la mafia nella persona di giovanni brusca e su ordine di totorrina aveva piazzato circa 500 chili di esplosivo in un canale di scolo sotto un tratto dell'autostrada sulla quale passavano le vetture con a bordo il giudice la moglie francesca morvillo e la scorta l'esplosivo fu fatto detonare quando il convoglio di automobili passò sopra quella canaletta e la deflagrazione fu così potente da creare un cratere sull'autostrada e causare la morte immediata di tutte le persone coinvolte dopo le sentenze del maxiprocesso la mafia non si sentiva più garantita dalla tradizionale politica mediatrice cercava quindi in questo modo di mandare un forte messaggio allo stato e alle nuove forze politiche che stavano nascendo dalle macerie di